Eccoci qui, ciao a tutti Io oggi sono ancora sul mio balcone ma vi assicuro che mi sto morendo di freddo Ho fatto un'intervista con NTR24 via Skype che è una televisione diciamo locale beneventana sulle vicende beneventane, su qualche offesa che mi è stata rivolta, molto sgradevole ma non me ne può fregare di meno come si dice, nel senso che io sono una normale cittadina che esprime il suo giudizio e chi si offende rispetto all'interlocuzione o ne fa un fatto di classismo sociale, peggio per lui, come si dice Ho fatto questa intervista, vi dico che oggi fa un freddo a Roma impossibile da sopportare però ho preferito connettermi dal balcone perché vedo che la connessione va un po' meglio e soprattutto c'è una luce migliore di casa mia che è una cosa buia che è insopportabile Buonasera a tutti, fuma pure, dice Giampiero, hai ragione, veramente ho appena smesso ma non so come fare, ne arriva un po' di aria fredda Ragione, fortuna, arriverà un'aria fredda seria mi hanno detto nel senso che peggiorerà ancora di più il tempo, bella tragedia perché ci manca solo il freddo in questo momento già siamo abbastanza rominati, con il freddo saremo proprio a posto Comunque, detto questo, io volevo parlare un po' con voi ho visto alcune proposte, non so cosa ne pensate al di là di questo freddo gelido di cui tutti mi scrivete soprattutto al nord da quello che leggo fa freddo e mi dice Giuseppe che sono l'unica politica dicente di Forza Italia detto da un leghista e io non sono di Forza Italia nel senso che io non faccio più politica, adesso faccio tv oggi un anno, un anno fa iniziavo ballando con le stelle che è stata un'esperienza stupenda sì, ho fatto anche la ballerina per fare spettacolo mi sono molto divertita e chi mi critica vuole delegittimare alcune categorie peggio per lui perché invece io mi sono tanto divertita, la rifare mille volte mi ha fatto tanto bene, è stato un periodo bellissimo della mia vita non sono più di Forza Italia come sapete quindi grazie per il complimento ma è un partito che ho lasciato da un bel ponte come sempre Gabriele è online, lo vedo che mi controlla detto questo, visto che mi hai scritto proprio tu che sei un leghista stavo guardando, prima di connettermi e di fare l'intervista a NTR24 sulle vicende beneventane, stavo guardando la proposta della Lega di Salvini sulla pace fiscale e edilizia che sarebbe opportuna in questo momento io non so cosa ne pensate voi, devo dire la verità io sono d'accordo nel senso che poiché viviamo un momento molto drammatico e il dopo sarà ancora più drammatico tra l'altro vorrei sapere dal Governo come ricominceremo a vivere se per fasce d'età, se dovremo indossare le mascherine anche dopo se dovremo stare a distanza quando torneremo nella vita normale sono linee guida che forse il Governo, soprattutto il Ministero della Salute dovrebbe darci comunque detto questo noi ci sveglieremo più poveri, più depressi di prima da un punto di vista economico è chiaro a tutti noi come tante altre nazioni ma noi che già avevamo qualche problemino penso che ne avremo ancora di più per cui probabilmente prevedere tra le tante misure poi anche una pace fiscale ed edilizia come loro propongono come il centrodestra propone secondo me è una cosa buona perché adesso è un momento straordinario molti abbiamo detto sarà un dopoguerra è una brutta parola è brutto dirlo però purtroppo è così per rendere l'idea ci vogliono anche parole forti vivremo periodi difficili che prevedono provvedimenti anche impopolari che normalmente non avremmo fatto ma che ora ragazzi sono tanto utili questa è la mia idea poi non so voi cosa ne pensate mi chiedi cosa ne penso dei 5 Stelle beh non sono assolutamente la mia idea sono molto lontana da loro e ti devo dire che ora io non li sento non li vedo mi sembrano spariti nell'oblio quindi non lo so io non ho mai accettato i populismi beceri o comunque quelli fatti accusando gli altri oggi forse molti stanno capendo quanto è difficile governare quando le cose si complicano probabilmente ci sveglieremo con tanta necessità di buona politica e lo dico da cittadino nel senso che io vorrò vedere eletti in Parlamento sui territori, nelle regioni ovunque persone competenti non dilettanti allo sbaraglio soltanto perché ci fa male lo stomaco o la pancia e ci mettiamo a fare i voti di protesta perché poi quando succedono le pandemie ragazzi ci vuole gente che sa quello che fa ci vuole gente consapevole, preparata per cui auspico sempre più buona politica e una politica fatta di persone che sanno quello che stanno facendo poi mi chiedete di Conte guardate io non so neanche se Conte è più dei 5 Stelle mi sembra abbastanza autonomo ormai da loro è il presidente del consiglio di tutti noi io lo rispetto come capisco che chiaramente in un momento così a Conte, a Salvini, a Lameloni o a chiunque si fosse trovato in questa situazione era difficile gestire questa situazione non mi sento di fare una critica a Conte in questo momento nel quale ci vuole collaborazione e non critica non è questa la stagione delle critiche lui non credo che potesse non era preparato né lui e nessun altro ad una pandemia ad una situazione così catastrofica per cui io direi lasciamo rilavorare collaboriamo ben venga la collaborazione fra le forze politiche così come è stato chiesto appunto oggi dal Senato in questo momento sono tutti penso in Parlamento appunto da Salvini è stato chiesto collaborazione molto predisposto a questo nell'interesse del paese credo che le proposte che arrivano dal centro-destra anche se il centro-destra è opposizione debbano essere considerate e quindi ben venga l'intervento che c'è stato il presidente della Repubblica l'intervento che ci sarà adesso l'incontro con Draghi perché è giusto che tutti possano dare il proprio contributo a questo paese e anche perché dobbiamo essere uniti per la battaglia che ci aspetta e ci attende contro l'Europa e dico contro perché è un'Europa egoista e quindi noi dobbiamo far sentire la nostra voce in maniera unita e in maniera forte credo che questo lo sappia anche Conte che ha preso che non ha firmato non ha accettato le cose che proponeva l'Europa e tutti insieme immagino che si troverà una soluzione per farci rispettare per avere misure migliori da un'Europa che ci deve sostenere e non soltanto romperci le scatole come ha sempre fatto in passato oggi è arrivato il momento della verità arriveranno tanti nodi al pettine ci sono già arrivati e abbiamo visto la sanità nel sud che è carente abbiamo visto le difficoltà che il paese vive e quanti insomma disagi ci sono per cui sono sicura che torneremo ad essere una nazione da questo punto di vista più unita tutti noi stiamo apprezzando alcune libertà che prima erano scontate prima cosa la salute e poi anche la libertà di uscire e fare una passeggiata prima era scontata adesso non è più così dice Anna che noi dobbiamo fare i sacrifici però non ho letto il resto mi dispiace molto però penso che al popolo è chiesto un grande sacrificio ma deve essere tutelato e coperto in questo momento difficile e mi auguro che vengano prestissimo fatti i provvedimenti che possano dare risposte a tutte le categorie che sono rimaste fuori dalle protezioni a cui è tenuto appunto lo Stato la battaglia dici bene sarà fronteggiare la crisi economica certo sarà fronteggiare la crisi economica che sarà tantissima sarà fortissima che vento e che freddo e lo so tu dici Giorgio che noi dobbiamo uscire dall'Europa ma non dobbiamo uscire dall'Europa perché se restiamo pure soli io non lo so come ne usciamo noi non abbiamo non siamo un paese forte noi siamo un paese che dovrà fare tanto debito pubblico come dice Draghi ed è giusto ma uscire dall'Europa e restare soli ma come si fa? non è questo dobbiamo pretendere un'Europa molto 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 più forte perché oggi non c'è un'Europa dice bene Luca non c'è un'Europa e noi dovremmo costruire un'Europa forte che sia di opportunità non c'è dubbio da questo punto di vista ci sarà un'ulteriore proroga oltre il 3 aprile ma non ho dubbi già si vocifera ma sicuramente ragazzi perché è vero che in Lombardia scendono i contagi è vero che ci sono purtroppo ancora tanti morti però non abbiamo risolto io in queste ore sento alcuni amici un mio amico in particolare che l'ha contratto stava benissimo una persona in grande forma fisica che fa sport che stava perfettamente con le analisi con il quadro clinico ha preso il coronavirus poi ha avuto la febbre e adesso sta col respiratore non possiamo riaprire e pensare di far morire le persone per cui io immagino che dopo il 3 aprile ci sarà ancora una proroga e credo che sia dovuta in ogni caso non lo decide un politico con un tweet lo decideranno i comitati tecnici scientifici che devono fare questo Alfonso tu mi chiedi se Conte farà un partito non lo so ma forse sì cioè nel senso io ormai vedo che lui è una forza autonoma dal Movimento 5 Stelle questa è l'opinione che ho io avendo fatto tanti anni politica e vedo che ha anche un suo consenso molto autonomo dai 5 Stelle per cui mi immagino che si farà un suo partito probabilmente sì cara annuncia dobbiamo andare a lavorare non si trovano le mascherine questa è una cosa terribile questa delle mascherine so che stanno a rilento con le autorizzazioni hanno concesso a tante aziende di riconvertire e bisogna subito comprare da queste aziende che hanno riconvertito e fatto mascherine perché non possiamo lasciare i cittadini sprovvisti di questo so che la produzione è tantissima adesso mi sa che sul sito della protezione civile possiamo anche vedere tutto il materiale che viene dato regione per regione in modo da monitorare quello che è stato fatto e credo che sia una cosa buona in modo da renderci conto dove arrivano e dove non arriva il materiale di chi sono le responsabilità che la trasparenza poi è il sale della democrazia e noi dobbiamo poter vedere tutto come mi auguro che rispetto ai buoni spesa che saranno dati dai sindaci oggi le catene della grande distribuzione hanno dato 10-15% di sconto per chi si presenta con questi buoni dei comuni mi auguro che i comuni si comportino bene con la morale che richiede il caso di specie e che siano date veramente bisognosi questi buoni spesa perché c'è gente veramente 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 disperata e quindi hanno bisogno di aiuto in tanti mi state scrivendo sulle mail mi scrivete di vostre sofferenze di grandissimi disagi anche a pagare le bollette del gas e questo non è possibile in un paese come il nostro non è possibile perché noi dobbiamo garantire a tutti di stare in casa ma starci bene in casa non senza corrente o magari senza gas o senza cibo il professor Preliasco dice che sarà lunga sì temo che sarà lunga ragazzi temo che sarà lunga perché c'è Raffaele perché purtroppo non siamo ancora arrivati a quel numerino a cui loro fanno riferimento per uscire dalla quarantena per cui sarà purtroppo ancora lunga e dobbiamo resistere dobbiamo resistere resistere molto difficile anche con i bambini vedo che i bimbi sono sempre sugli ipad sempre a giocare i maschietti fanno insomma continuamente con i videogiochi le bimbe sempre a vedere i miei controteo cose analoghe lo dico perché ho una figlia di 7 anni e sono molto preoccupata perché questa è una destabilizzazione al di là insomma dei 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 compiti della scuola poi questi bimbi vivono una vita che non gli appartiene che sarà comunque destabilizzante oggi e domani per loro che sono purtroppo reclusi in casa tutto il giorno mia figlia dice che casa sua è diventata una prigione purtroppo ha ragione però dovremmo con tanta pazienza far capire che in questo momento non si può fare diversamente va bene ragazzi io vi confesso che mi sto gelando mi ha fatto piacere collegarmi ma se non entro non mi viene il coronavirus ma mi viene la febbre a 40 nonostante il giubbino sono ho le mani che non riesco più a muoverle quindi vi mando un bacio grande ci vediamo domani dopo leggo tutto quello che avete scritto perché così non riesco mentre parlo a leggere tutte le cose e saranno spunto per la mia diretta di domani che ci sarà come sempre perché chiaramente per me siete una compagnia e spero di esserlo anche io per voi molti vedo che continuano a scrivermi torna in politica la vita è lunga chi lo sa un bacio grande a tutti